Ciao a tutti, io sono Serena Maccialatte e questo è Popcorn, la news dalle carse le dita. La cara casa Disney non ci delude mai, infatti oggi ci fornisce due succulente novità. Il primo è un annuncio sorpresa, credevate che la terza fase dei cinecomics fosse già definita? Ebbene Marvel ha deciso di sconvolgerla annunciando la data di uscita del sequel di Ant-Man. Il film non si chiamerà Ant-Man 2, bensì Ant-Man and the Wasp e sarà nelle sale il 6 luglio 2018. Sconvolti? Beh, rilassabili, perché Gli Incredibili 2 ha finalmente una data di uscita. Il film di Brad Bird, infatti, sarà distribuito nelle sale il 21 giugno 2019. Non sappiamo ancora molto della trama, se non che Bird ha deciso di non seguire la scia dei film supereroistici che vanno di moda oggi. Ma punta a mantenere anche il mix di elementi fra spionaggio e commedia che hanno definito anche il primo film. Tutto molto molto bello, ma quanto ci fai aspettare Disney cara?